La top model Naomi Campbell sposerà ad agosto a Mosca il suo attuale fidanzato, il miliardario russo Vladislav Doronin. Lo riferiscono il quotidiano Cosmolovskaya Pravda e altri siti online, secondo i quali la coppia avrebbe già inviato gli inviti ad amici e ospiti. Stando a tali fonti l'oligarca avrebbe già scelto l'anello di matrimonio, mentre l'irascibile supermodella di colore avrebbe già ordinato l'abito da sposa Dolce Gabbana e suoi stilisti preferiti. Come regalo di nozze Doronin avrebbe inoltre promesso alla Campbell un ruolo da protagonista in un film di Bollywood. Tra gli ospiti che parteciperanno alla cerimonia di nozze in agosto vi saranno tra gli altri Tina Turner e Karl Lagerfeld. Naomi Campbell e Vladislav Doronin si conobbero lo scorso anno a una festa di Dolce Gabbana a margine del Festival del Cinema di Cannes. Attualmente la top model vive nella villa di Doronin alla Rublyovka, un elegante soborgo di Mosca costellato di daci eleganti, residenze di lusso in cui abitano i nuovi paperoni russi.